Ma dov'eri finito? Il volo parte tra due ore. Appunto, stavo preparando le cose della piccola. Quale piccola? Ciao! In che senso ciao? Non possiamo portarla con noi, non può stare in hotel! Ma scusa, che vuoi che faccia? Deve stare con me questo mese. Ho detto a mia moglie che grazie alla promozione, beh, l'avrei portata in vacanza in un hotel di lusso, saremo invisibili. Nessuno se ne accorgerà, è una bambina minuta. Minuta è la camera in cui dovremmo stare? Ma lei si adatta a tutto. E io dove li metto, i miei? Ciao! Che succede? Avevo dimenticato che stanno con me. Anna li ha lasciati alla porta un'ora fa. Che vuoi fare? Oh, mamma mia! Con i loro biglietti restiamo senza soldi. Non possiamo neanche pagare l'affitto. Tanto ce ne andiamo, come ci trova? E al ritorno? E al ritorno affronteremo il problema. Ma sarà troppo tardi? Finiremo a vivere in mezzo a una strada.